Ciao a tutti ragazzi, oggi vi facciamo vedere un bel ripristino di una valvola, un tipo di sfondamento che avviene quando si cerca di allargare la valvola e vi faccio vedere come fare, va bene? Vediamo il video. Questo è il carter in questione, ecco qua il buco. E questa è la visuale interna. Quindi andrò a mettere un po' di materiale dalla parte interna e lo farò fuori uscire dal forellino, qui. E poi andrò a stuccare qui, per far fare ripresa bene. Innanzitutto questo qua è stato già lavato per bene, sgrassato per bene tutto il carter. Adesso farò dei forellini qua, piccolini, per far aggrappare lo stucco. Ecco qua, lo sgratterò un po' sempre con la stessa punta. e poi di nuovo sgrassaggio e poi applicazione stucco. Perfetto. E' un po' sempre con la stessa punta. Grazie a tutti. 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 Lo stucco è indurito quindi possiamo andare a rifinire ragazzi. Ok. 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 e anche questo lavoro è stato completato sicuramente Giuseppe rimarrà felice rimarrà contento del lavoro fatto alla valvola perché non solo era bucata poi gliel'ho portata a 13 gli ho centrato il collettore un lavoro non dico di lusso ma di aceto ci sentiamo al prossimo video ragazzi mettete like zitta sei zitta vieni qua vieni qua eccola qua ragazzi ve la faccio vedere questa è la mia amica la mia compagna ecco qua il video è finito ci vediamo al prossimo video mettete like se vi piace e iscrivetevi al canale ciao a tutti